Benvenuti al Rassegna Stampa di oggi, lunedì 25. 5 novembre, manca un mese a Natale, giusto giusto e benvenuti dicevo al nostro appuntamento mattutino delle 7 in diretta sul canale 17 di Fano TV dove tra poco vedremo i giornali in edicola questa mattina, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Ma come di consueto prima uno sguardo al Santo e poi al tempo di oggi. Vediamo, il Santo oggi è Santa, anzi Santa Caterina di Alessandria. Il sole sorgerà alle 7.13, tramonterà alle 16.36. Vediamo il tempo. Intanto questa è la prima pagina con le fotografie drammatiche, tragiche dell'Italia, soprattutto al nord, in Liguria, dove è successo quello che ormai tutti abbiamo sotto gli occhi. Mal tempo, crolla un viadotto sull'A6 nei pressi di Savona, allagamenti al sud, altre piogge la prossima settimana. Probabilmente arriverà anche il freddo. Questa invece è la pagina della protezione civile delle Marche, che per la giornata di oggi prevede un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con progressiva tenuzione della copertura dal pomeriggio. Per quanto riguarda le piogge, nelle prime ore della giornata saranno diffuse anche a carattere di rovescio. I fenomeni andranno ad esaurirsi nei settori centro-settentrionali, quindi nella provincia di Ancone di Pesaro-Urbino, già dalla mattinata. Continueranno invece ad insistere fino alla fine della mattinata nei settori meridionali della regione, in particolare quelli montani. Nel pomeriggio i fenomeni saranno assenti o al più deboli e residui nel settore montano meridionale. Le temperature sono in lieve aumento nei valori massimi. I venti saranno ancora tesi lungo la costa, con raffiche fino a burrasca forte, ma nel pomeriggio ruoteranno da nord a ovest e diminuiranno di intensità. Le mareggiate lungo le coste esposte, mareggiate già in corso dalla giornata di ieri. Per quanto riguarda domani, martedì 26, il cielo tornerà ad essere sereno o poco nuvoloso. Mercoledì invece tornerà la pioggia, soprattutto in montagna. Ancora venti che soffieranno lungo la costa. Lieve instabilità per le giornate di giovedì e venerdì. E adesso, come sempre, andiamo a vedere i giornali. Il Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, muraglia e piano sanitario. I medici mai stati coinvolti. La stoccata del presidente dell'ordine della provincia di Pesorbino Battistini all'indirizzo della regione. Lo vedremo tra un istante. Poi lo sport a centropagina con la vispesero che esulta, mentre il Fano adesso si trova nei guai. I biancorossi, infatti, piegano l'Arzignano 2-1, quindi visca e vince. Granata, KO a Vicenza. Stesso punteggio, ma a favore dei padroni di casa. E adesso l'allenatore del Fano Fontana, Vacilla. VL invece, anche per il basket pesarese, non va un granché. Nona sconfitta su nove partite per la Carpegna Prosciutto. 101-74 il risultato finale a Brescia. A parziale scusante dell'ennesimo stop, l'assenza di tre giocatori che ha costretto l'allenatore, il coach Perego, a giocare con una panchina cortissima. Studenti intossicati ad Urbino, in pronto soccorso a Pesaro. Controlli in corso, chiusa la mensa tridente. Salgono a 50 gli universitari colpiti da malore. Un'intossicazione alimentare che ha visto questo caso allargarsi. Oltre ai 12 studenti finiti al pronto soccorso di Urbino, venerdì diversi altri giovani universitari sono stati costretti a recarsi all'ospedale di Pesaro. In totale i casi sarebbero una cinquantina. Tutti erano stati alla mensa del tridente. Agora attacca e adesso vuole spiegazioni. Il resto del canino di Macerata, un eroe in divisa, svelata la targa per il maresciallo Piermanni. Pettinare invece accelera sulla bretella, progetto entro il mese di marzo. E poi uno schianto a Tolentino sulla 77, tra i feriti anche un bambino e una donna in cinta. Ma sugli sfollati, otto traslochi in tre anni, il calvario di una coppia di Tolentino costretti a vivere in albergo. Ora ci sposiamo lontano da casa. Pesaro assalta la villa della moglie. Terrore a Mondavio. Un uomo pretende di tornare dalla donna che lo aveva cacciato e prende a calci la porta. Ma è stato bloccato. A centro pagina visse, stavolta ci siamo, i biancorossi battono l'Arzignano, torna la fiducia. Battuta di caccia, battuta alla cinghiale, un cacciatore inciampa e si ferisce da solo. È successo a Ghilardino vicino a Fossombrone. Il colpo parte accidentalmente. Ma dal 15 dicembre il Frecciarossa snobberà la stazione di Pesaro. Stop, scoppia e scatta la protesta. Poi c'è un lutto. È morto Don Mazzoli, sacerdote e giornalista. Lo piange la città di Pesaro. Mentre Urbagna si mette le scarpe rosse. Un no forte contro la violenza. E ancora Sport, in fondo alla prima pagina del Carlino. La nonna batosta di fila. Vuel è travolta a Brescia senza rinforzi. È la fine, mentre Fano che peccato. L'orgoglio non basta. Granata in vantaggio, ma poi sconfitti a Vicenza. E allora, questa è la pagina dell'Assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi. Anzi no, ieri mi pare. A sinistra vedete il giuramento dei giovani medici laureati. Il giuramento di Ipocrate. Poi dall'alto i componenti dell'ordine. E sotto il Presidente Paolo Maria Battistini. Noi medici, il quale dice noi medici mai convolti nelle decisioni sulla sanità. A Palazzo Antaldi, la stoccata di Battistini, Presidente dell'Ordine, all'indirizzo di Regione e Ceriscioli. E in queste quattro pagine di relazione, dove il Presidente ha trattato anche temi specifici attuali, quanto di ampio respiro e accaratura nazionale, per poi chiosare sul locale, toccando questioni sensibili come il nuovo ospedale a Muraglio, ma anche il piano sanitario regionale. E dice, quello che posso affermare, dice Battistini, l'ho detto e lo ripeto, è che noi medici non siamo mai stati minimamente coinvolti nelle decisioni prese in sostanza da Regione, eccetera. E quindi, se qualcosa andrà storto, nessuno potrà addossarci le colpe. Anzi, lo dico con orgoglio, abbiamo operato, nonostante tutto, sempre al meglio negli ospedali, nei poliambulatori specialistici e nella medicina generale. E sempre, ribadisco, mettendo al primo posto i nostri pazienti, in modo particolare, i più fragili e più bisognosi. L'altra pagina, quella di Fano del Corriere, apre con la chiusura di Sapore e Romi d'autunno, che è andata, direi, molto bene. L'olio è di qualità, sono stati premiati i produttori. L'oro delle Marche va ai terremotati, cerimonia il Codma per il sipario di Sapore e Romi d'autunno. C'è Cacci, che è il presidente di Olea, insieme poi a Giorgio Sorcinelli, che è il presidente di Viandanti di Sapori, ma c'erano anche tanti altri rappresentanti delle istituzioni. C'è Cacci dice, 20 anni di lavoro, ottimi risultati. E questa è una foto di gruppo di tutti i premiati del concorso Olea al Codma. Poi per quanto riguarda le mareggiate, adesso aspettiamo la luce del sole per vedere che cosa ha combinato il mare questa notte, quindi tra poco vedremo un po' i risultati. Già ieri, insomma, il mare stava creando qualche problema. Ma dicevo, sugli scolmatori, e siamo sempre su Fano, le cassandre, cioè quelle che sperano che vada sempre tutto male, sono state zittite. A smentita di appunto queste cassandre, che avevano pronosticato un fallimento degli scolmatori di Sassonia, ebbene c'è il superamento della prova di questi scolmatori, che è stata anche piuttosto impegnativa. Sono stati scongiurati i disastrosi effetti che avrebbero potuto procurare le due violente mareggiate che nei giorni scorsi hanno investito la costa fanese a poca distanza di tempo l'una dall'altra. Ora, queste due mareggiate hanno superato la prova, adesso vediamo se ha superato anche la terza, quella della notte scorsa. E queste sono parole del Presidente di Aset, Paolo Reginelli. Poi, siate dei modelli ma vicini alla gente, sono parole virgolettate del Vescovo Trasarti, che ha celebrato la messa della Virgo Fidelis al Duomo di Fano per l'Arma dei Carabinieri. Dovete essere parte di questa terra. Aggiunge, presente oltre al Sindaco Seri e ai vertici militari locali, anche il prefetto di Pese Urbino-La Polla. Poi, le preghiere del Capitano Luigi Grella, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile e del Capitano della Compagnia Carabinieri di Fano, Maximiliano Papale. Questa è la pagina, invece, del resto del Carlino. La cronaca. La moglie lo rifiuta, lui sfonda la porta a calci. Si pretendeva di rientrare nell'abitazione di famiglia, dalla quale era stato cacciato. Arrivano i Carabinieri, l'uomo portato in caserma. La donna avrebbe scoperto, tramite un test, che il coniuge era positivo alla cocaina. Mentre sotto, l'incidente ad un cacciatore, un cacciatore che inciampa e ha fatto partire un colpo che lo ha ferito al braccio, intorno alle 14 di ieri, lungo il fiume Metauro. L'uomo non è grave, però indagano i Carabinieri. L'incidente è avvenuto a Ghilardino durante una battuta al cinghiale. Addio al prete giornalista. È morto ieri Don Raffaele Mazzoli. Nel 1972 fondò il settimanale interdiocesano Il Nuovo Amico. Dunque un lutto per tutta l'arcidiocesi di Pesero, ma essendo il giornale interdiocesano, quindi coinvolge anche le diocesi di Fano, Fossumbroni, Caglipergola e quella di Urbino. Il lutto è per tutta la provincia. Ha fondato Il Nuovo Amico nel 1972, un incarico che gli era stato dato dal Vescovo di allora, Gaetano Michetti, e che ha diretto fino alla fine del 2017. Mentre oggi, ricorda il resto del Carlino, ci sarà l'ispezione sul corpo di Ottavia Salvini, la fanese di 46 anni uccisa da un malore sabato mattina mentre passeggiava lungo la spiaggia dell'Arzilla. I funerali si terranno nella giornata di domani o dopodomani. Adesso ancora la famiglia dovrà decidere. Ecco la foto di Ottavia Salvini, questa donna di 46 anni che ha accusato un malore mentre appunto portava a spasso il cane lungo la spiaggia dell'Arzilla. È stata portata subito in ospedale, però purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Bisognerà adesso capire quali sono le cause esatte di questo decesso. Il resto del Carlino sull'Assemblea dell'Ordine dei Medici a Pesaro, medici come pubblici ufficiali, la legge è giusta. Il Presidente plaude a questo progetto che ripara i camici bianchi dalle aggressioni, poi si è parlato anche di altri temi, di ambiente, soprattutto dei polveri sottili, del tanto smog purtroppo che c'è nelle nostre città e della carenza di organici. sull'ospedale unico e la clinica privata a Fano, dice su queste cose non ci hanno consultati, dice Paolo Battistini. Freccia rossa invece sono state soppresse le fermate delle 6.20 del mattino e delle 20.14, dunque più difficoltà per i pendolari a raggiungere la città di Milano e viceversa, quindi da e per Trenitalia dal 15 dicembre bypassa Pesaro e conferma invece Rimini. La novità scatterà con l'entrata in vigore dell'orario invernale, con il regionale bisognerà arrivare fino alla Romagna per poi fare il cambio e prendere il treno più veloce. Queste invece sono le scarpe rosse a Urbania che sono state di grande impatto, 72 paia di calzature a simboleggiare le vittime di femminicidio nel 2018. Il fenomeno non è esclusivo delle grandi città, queste cose accadono anche qui, e l'abbiamo visto poco fa leggendo la cronaca da Mondavio. Ancora dai quotidiani, tra poco c'è lo sport, qui Senigallia, fermato e multato tre volte, notte horror per un giovane, è stato fermato per l'alta velocità e per un sorpasso azzardato, si tratta di un 27enne già conosciuto dalle forze dell'ordine, perché insomma pare non vada poi così tanto piano con la macchina, ed è finito nel mirino dei carabinieri. Poi però c'è anche nel controllo effettuato dai carabinieri, nella notte scorsa, c'è anche la segnalazione di una 44enne di Mondolfo che era ubriaca alla guida dell'auto, si è schiantata contro un palo della segnaletica e poi come se nulla fosse è presa ed è andata via, se n'è andata tranquillamente. Ma quello che scrive Sabrina Marinelli sul giornale di questa mattina è che racconta, è di questo 27enne già noto alle forze dell'ordine per aver commesso alcune irregolarità alla guida in passato, sabato sera era a bordo della sua macchina nella zona del Cernin a Senigallia e mentre procedeva ad una velocità elevata è stato fermato e sanzionato per guida pericolosa. Ma il ragazzo è stato poi visto prima al Cernin, poi anche in un altro posto nel lungomare dove gli sono stati tolti anche 5 punti, poi sempre nella stessa serata in un altro punto del lungomare è stato fermato di nuovo e questa volta ha perso 3 punti. Insomma per la bravata sabato sera il giovane dovrà pagare 212 euro di multa in totale e ha perso praticamente 8 punti della patente. Sulla questione, e torniamo per un attimo, questa pagina doveva essere attaccata a quella dell'Assemblea dei Medici di Pesero, lo facciamo lo stesso, insomma la leggiamo lo stesso, perché qui si parla di pubblicità sanitarie, in particolare di quelle pubblicità che i camici bianchi non potrebbero fare. E allora qui nell'articolo di questa mattina sul Corriere Adriatico si fa riferimento per esempio ad uno dontoiatra di Pesero che è stato sospeso per un mese dall'esercizio della professione. La causa qual è? È aver violato il codice deontologico nel campo della pubblicità sanitaria. E all'auditorium dove c'è stata questa Assemblea annuale dell'Ordine dei Medici, Franco Cesaroni, che è presidente della Commissione Albo Dontoiatri, ha annunciato una stretta verso chi infrange le regole. E c'è per esempio un caso, un recente episodio salito alla ribalta delle cronache, dove un odontoiatra sui social network si era detto disponibile a fornire delle prestazioni gratuite rivolte a persone indigenti. Però ci sono anche altre segnalazioni di cui ha parlato appunto Franco Cesaroni e potrete leggerle sul giornale. Contro i ladri invece, gli accordi di vicinato. Bene, ma serve un coordinamento. E' la proposta dell'assessore Riccardo Pozzi, che dice di coinvolgere i consigli di quartiere. Siamo a Pesaro. Furti, segnalazioni, sono arrivate ultimamente anche da Villa Ceccolini. Ora, quella che un tempo era solo una proposta che non era mai riuscita ad andare fino in fondo, ora potrebbe essere portata avanti con determinazione dal Comune di Pesaro, con l'avvallo della Prefettura, che quella volta c'era un altro prefetto, ma era stata un po' stoppata. Come dire, il controllo, lasciamolo alle forze dell'ordine, i cittadini facciano semplicemente e si limitino alle segnalazioni. Ora, il tema dei furti, per quanto incala, secondo le statistiche, però è sempre di attualità e creano certamente allarme sociale. E le ultime segnalazioni giungono, per esempio, dalla serata di sabato, con dei ladri che erano in azione nella zona di Villa Ceccolini e in Via Lago Maggiore. Questa presenza di malviventi nel quartiere ha provocato anche un eccesso tam-tam sui social. Poi sapete, si genera anche un po' di timore, un po' di paura. E quindi bisognerà, perché no, pensare di regolare un po' questa cosa. E quindi si sta pensando di organizzare un po' questi... In alcune città si fa, anche in alcuni paesi, con WhatsApp, ci sono questi gruppi che sono in qualche modo controllati e quindi servono un po' per dare una mano, manforte, anche alle forze dell'ordine, senza sostituirsi chiaramente alle forze dell'ordine. Chiesa e giornalismo in lutto per la morte di Don Mazzoli, anche il Corriere Adriatico ricorda la figura del direttore merito del Nuovo Amico che aveva fondato nel 1972. Fox Petroli, sempre a Pesaro, il Comune faccia chiarezza. Tombaccia è un quartiere in espansione. Il consigliere d'opposizione Gambini presenta una mozione per dibattere sul futuro dello stabilimento. La Fox, dunque, che torna di nuovo nel Mirino, è una parte di città dove insiste appunto la Fox Petroli, queste cisterne, queste grosse cisterne, è una parte di città che si sta espandendo e qualcuno si chiede cosa c'è dentro quelle cisterne e quindi evitiamo rischi per i cittadini. Ed è arrivata una mozione da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale a Pesaro per discutere sul futuro di questa area, di questo quartiere. Nelle prossime sedute si affronterà anche il tema appunto di questa della Fox per capire se c'è la possibilità, qualcuno diceva, di spostarle. Ma insomma, non è che spostiamo due birilli, si tratta, guardate qua, di spostare delle cisterne in un altro punto della città. Non è un'operazione assolutamente, credo, semplice. Poi, sempre dal Corriere Adriatico, questa è la pagina di Valle Foglia, raccolta differenziata, 38 multe a Monte Labbate, che ora vola però all'84%. Nuovi incontri esplicativi e sanzioni della polizia ai furbetti. Il comune migliore da 18 mesi di fila. Sotto Torcolacci, una caduta di stile, sempre da Valle Foglia, centrodestra sugli avvicendamenti, dimissioni, motivi personali. Questo è Urbino. Gli universitari intossicati salgono, come abbiamo visto dalla prima pagina, a 50. Molti sono andati in ospedale a Pesaro. Si parla di un'intossicazione alimentare che, dagli iniziali, 12 studenti è arrivata a circa 50. Nella serata di venerdì, molti hanno sentito dolori di stomaco, forti nausee, sudori freddi. Diversi altri giovani universitari sono stati costretti invece a recarsi all'ospedale di Pesaro per via del numero elevato di casi già presenti nell'ospedale di Urbino, quindi per non intasarlo. Tutti erano stati a pranzo alla mensa del collegio Tridente e tutti, verosimilmente, avevano mangiato piselli. Solo due dei 12 studenti passati per il pronto soccorso di Urbino sono stati alla fine ricoverati e tenuti sotto osservazione anche il giorno successivo. La mensa attualmente è stata chiusa fino a nuove disposizioni. In questo periodo sarà aperta in sostituzione la ristorazione Duca. Chiaramente adesso si tratterà di far chiarezza soprattutto su se ci sono delle responsabilità in questo senso e sicuramente ci saranno. Cani maltrattati in aumento, Calucio dà l'allarme. Gli operatori parla di cani abbandonati e traumatizzati dai padroni e dunque servono più controlli capillari. Mentre dalla Val Cesano, ex discarica di San Cristoforo a Pergola, un no al recupero ambientale. Al progetto si oppongono i sindaci di Pergola di San Lorenzo in campo, mentre sotto da frontone, Mufloni a Valle, un monito per gli automobilisti, sbranato dai lupi, probabilmente disturbati da un automobilista in transito e la sorte di un muflone adulto, maschio, che è stato trovato nella giornata di ieri, morto sul lato della strada tra le località Foce e Grotticciole, punto di partenza dalla bidonvia che sale sul monte acuto e sull'impianto dunque sciistico. A fare la sorpresa i carabinieri forestali della caserma di Serra Sant'Ebbondo che hanno trovato questa carcassa sbranata. Siamo allo sport, velocemente Fano è un colpo sfumato, passa subito in vantaggio con Saeed, ma nella ripresa viene ribaltato dalla capolista Vicenza e la settima sconfitta di fila che lascia Granata all'ultimo posto, Fontana, allenatore a rischio esonero. Il risultato, come abbiamo visto, 2-1 in casa del Vicenza, e ora spunta anche il nome di Alessandrini. La società, dopo la settima sconfitta consecutiva, sta riflettendo sulla posizione dell'allenatore. Ci sarebbe anche l'ex vis Magi tra i papabili, la rabbia del mister che dice però meritavamo molto di più. Vis ne segno invece di Grandolfo, vis Pesaro che vince in casa al Benelli, 2-1 contro l'Arzignano, ritrova la vittoria dopo un mese e risale la classifica mentre la VL perde contro la squadra Germani, 101-74, anche Brescia può fare festa, senza tre giocatori era una missione praticamente impossibile, ma il morale della squadra adesso è davvero sotto i tacchi. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale, e poi subito dopo in diretta Primo Cittadino. Ospite di questa sera ci sarà il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangiolardi. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per aver guardato il video,